Sono state avviate nella mattinata di oggi le ricerche di Felice Bianchi. Gli uomini dell'arma della compagnia di Chiavenna, allertati dalle due sorelle del 57enne Chiavennasco, hanno immediatamente dato il via alle operazioni. Le donne avevano perso i contatti con il fratello già nella serata di ieri, ma hanno allertato le forze dell'ordine solamente quest'oggi. Stiamo concentrando le indagini tra Chiavenna, Mese e Gordona, riporta il comandante Daniele Gandon. Al momento, prosegue l'ufficiale, non abbiamo ancora elementi che possano far luce sulla scomparsa di Bianchi. Impegnati nelle ricerche, oltre ai militari, anche gli uomini dei Vigili del Fuoco e quelli del Soccorso Alpino, i familiari, al fine di facilitarne il ritrovamento, hanno lanciato un appello sulle pagine di Facebook. L'uomo, al momento della scomparsa, indossava jeans, una maglia azzurra coperta da una giacca scura e delle scarpe nere con la riga rossa di marca Salomon. Il 57enne è alto 1,80 m ai capelli corti di colore biondo scuro e porta occhiali da vista particolare che non traspare dalle immagini pubblicate sui social.